45 mila euro al giorno è la cifra che dal primo agosto il consorzio progeste dovrà pagare per il ritardo di consegna del polo ospedaliero di cona tre dipendenti della provincia sono stati travolti da un tir mentre rifacevano le linee bianche un morto e due in fin di vita non li ho visti queste sono state le parole del camionista arrivo di sua egli all'odg in consiglio comunale crea subito scompiglio e arrivano le proteste ma dopo il minuto di silenzio in onore del giudice borsellino si è aperta la riunione con il bilancio del 2009 dal camion vola un pezzo di cemento la vittima è solo una cancellata battuta da 30 chili di cemento festa di ferragosto ecco il via la quattrodicesima edizione del concorso per il salame all'aglio la partecipazione oltre ad essere libera è anche aperta ai non residenti una flotta veneziana nell'ottobre del 1404 composta da sei galere e altre navi entrò nel po di primaro e raggiunse sant'alberto intanto il marchese nicolò d'este dopo aver inviato la cavalleria raggiunse argenta e qui compose una flotta di 16 galeoni e altre navi lo scontro navale si ebbe a sant'alberto ma la flotta veneziana uscì vincitrice avanzò fino a spugnare la bastia per poi rimanere bloccata dalle fortificazioni di argenta la battaglia è stata immortalata dal tintoretto celebre pittore del 500 e il dipinto è stato intitolato vittorie di argenta si può ammirare ancora oggi al palazzo ducale di venezia